Personalità pericolose di John Navarro Avere a che fare con le personalità pericolose La cosa migliore da fare è ovviamente evitarle, ma a volte non possiamo. Forse ci trovano o noi ci troviamo con loro per una serie di motivi, compresi i viaggi, il matrimonio e il lavoro, o forse si tratta di un parente. Qualunque sia la ragione, se pensate di essere in presenza di una personalità pericolosa, prima di tutto prendetevi cura di voi stessi. Spero che le strategie sotto descritte vi aiutino.